Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Amoresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il Santo del Giorno, 16 dicembre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Adone Vescovo. Oggi avvenne, 16 dicembre 1691. Apostolo Zeno fonda l'Accademia degli Animosi a Palazzo Grimani presso Santa Maria Formosa. Il 29 aprile del 1698 l'Accademia diventa un'affiliata dell'Accademia dell'Arcadia, ovvero una colonia dell'Accademia Letteraria dell'Arcadia, fondata a Roma nel 1690, la quale non è una semplice scuola di pensiero, ma è un vero e proprio movimento letterario che si sviluppa e si divulga in tutta Italia. L'Accademia degli Animosi chiuderà nel 1724. Oggi vi racconto Vediamo allora di presentare il personaggio di oggi, Apostolo Zeno. Apostolo Zeno nacque a Venezia l'11 dicembre del 1668 da Pietro e da Caterina a Sevastò, terzo di quattro figli, uno dei quali morto in età infantile. Apostolo venne battezzato nella parrocchia della Trinità. Il padre era dottore in medicina ed esercitava in Candia, ma aveva deciso di ritirarsi a Venezia con la moglie poco prima che l'isola nel settembre 1669 cadesse in mano ai turchi. Da secoli gli Zeno godevano dello status nobiliare nell'isola, anche se il nonno di Apostolo, Nicolò, non potesse riscritto nel locale Libro dei Patrizzi in quanto nato prima che suo padre Matteo ottenesse la dispensa necessaria a sposare una cugina. Lo stesso Apostolo era uso a qualificarsi come nobile cretense e cittadino originario veneziano. Dopo la prematura scomparsa di Pietro, avvenuta nel 1670, la madre Caterina, in un primo tempo aiutata dal cognato Francesco Zeno, vescovo di Capodistria, si risposò con il Patrizio Pierantonio Cornaro. Così Apostolo, il fratello Maggiore Nicolò e la sorella Maria passarono sotto la tutela del Patrigno, in un palazzo nel sestiere di Castello. A cinque anni d'età il futuro poeta cominciò a manifestare una precoce passione per la lettura, tal che lo zio vescovo dispose che il giovinetto, in età più matura, potesse frequentare la scuola annessa al seminario educale, il cosiddetto collegio di Castello, retto dei padri somaschi. A 17 anni Apostolo fece pubblicare un poemetto in ottave intitolato L'incendio Veneto, con l'aggiunta di tre odi satiriche, il tutto dedicato al doge Marcantonio Giustiniani. Seguirono altri due poemetti eroici, la conquista di Navarino e la resa di Modone. Tra i 18 ai 23 anni, il giovane letterato intensificò lo studio dei classici latini e italiani, nel tentativo di riformare lo stile del tempo da lui percepito come corrotto. Si dedicò a tradurre in terza rima cinque satire di Persio e ridusse in versi italiani alcuni epigrammi di marziale, ma di tali cimenti quasi nulla rimane. Uscito dal collegio nel 1687, Apostolo doveva provvedere alla sorella e alla madre. Iniziò quindi a dedicarsi al commercio di libri antichi, ponendo le basi della sua vasta collezione. Nel frattempo il fratello Nicolò era entrato nella congregazione Sommasca col nome di Pier Caterino, rinunciando alla sua parte di eredità. Tra gli amici di quegli anni spiccano i patrizi musicisti Alessandro e Benedetto Marcello, il poeta Antonio Conti, il librettista Benedetto Pasqualigo, il cartografo Vincenzo Coronelli, il padre friulano Giusto Fontanini, il futuro doge Giovanni Cornaro e il di lui fratello Giorgio, poi Vescovo di Padova, il collezionista di medaglie Giovanni Domenico Tiepolo e l'erudito Bernardo Trevisano, proprietario di antichi codici. Il 16 dicembre del 1691, per ridare impulso all'Accademia Veneziana dei Dodonei, divenne il principale promotore della nuova Accademia degli Animosi, che per impresa aveva un'edere intrecciata a un alloro, con il motto oraziano Tenues Grandia. Tra i sodali verano i fratelli mercanti Pietro e Giuseppe Durli, accanto ai poeti Domenico David, Pasqualigo e Bartolomeo Dotti. Il 29 aprile del 1698, l'Accademia Animosa venne dichiarata Colonia d'Arcadia, con l'approvazione del custode generale Giovanni Mario Crescimbeni. Nel frattempo i suoi aggregati erano saliti a 64, includendo pure Ludovico Antonio Muratori. Nel 1696, Zeno aveva iniziato a collaborare con il periodico La Galleria di Minerva, per il quale stilò le biografie di Giovanni Giorgio Trissino e di Battista Guarini, opere poi ripudiate, come nel 1705 avvenne poi per l'intera sua produzione lirica giovanile, abbandonata a favore di un'assidua pratica del dramma per musica. In questa veste, il 28enne aveva debuttato a Venezia nel novembre del 1695, con la pastorale Gli inganni felici, musica di Carlo Francesco Pollarolo. L'anno successivo, 1696, fu la volta del dramma pastorale Tirsi, con musiche di Antonio Lotti, con dedica a Ferdinando Carlo, duca di Mantua. Per il margravio Giorgio Federico II di Brandeburgo Hans Bach, compose poi un'altra pastorale, Il Narciso. Nel 97, per il teatro di Sant'Angelo a Venezia, scrisse i rivali generosi nel periodo di Carnevale ed Eumene nell'autunno, entrambe con musica di Ziani. Al Carnevale veneziano del 1699 risale l'opera Faramondo, rappresentata al teatro di San Giovanni Grisostomo, dedicato a Ferdinando de' Medici, gran principe di Toscana, che volle allestirlo ex novo a Pratolino in settembre, sorte analoga il Carnevale dell'anno dopo, dove esordì l'opera Lucio Vero, stesso teatro, stesso compositore. Nel 1700, Zeno soggernò anche a Modena, su invito del duca Rinaldo d'Este, per edigere il testo di una festa d'armi in onore del figlio Francesco, svolta il 22 febbraio nella piazza dinanzi al Palazzo Ducale. Il fortunato dramma per musica Griselda, che rielabora un notissimo soggetto tratto da Boccaccio e Petrarca, andò per la prima volta in scena nel teatro di San Cassiano, in Venezia, nel 1701 con Antonio Pollarolo. Notevole anche il successo al riso al Venceslao, nel 1703, di nuovo al San Giovanni Grisostomo. Nel giugno del 1701 fu infine rappresentata nel giardino della favorita a Vienna la prima opera di Zeno, commissionata dall'imperatore, l'azione scenica Temistocle, con musica di Marcantonio Ziani, soggetto eroico ma scena unica. Leopoldo I aveva invitato Zeno a Vienna con uno stipendio di 4000 fiorini, ma il drammaturgo declinò l'offerta per non abbandonare la sorella. Poco dopo iniziò una fruttuosa collaborazione con il poeta reggiano Pietro Pariati, che si era stabilito a Venezia a fine 1699. Nella stesura dei drammi, Zeno stabiliva il soggetto e l'orditura, mentre il coautore si occupava della versificazione. Alleggerito il carico degli impegni teatrali, il letterato poteva dedicare più tempo ad ambiziosi imprese erudite. Ideò almeno quattro opere monumentali, rimaste tuttavia incompiute. Una raccolta di 5000 biografie di poeti italiani e un'altra contenente un migliaio di profili di letterati veneziani, una serie di cronache inedite italiane, nonché un catalogo di codici manoscritti. Nel 1703, però, Zeno non riuscì ad ottenere il posto di custode della libreria di San Marco e si fece sfuggire pure l'occasione di succedere a Pier Antonio Bernardoni come poeta cesareo a Vienna. Le complicazioni delle trattative avevano fatto spazientire il veneziano che, lasciando campo libero a Silvio Stampiglia, dichiarò di non potersi trasferire nella capitale dell'impero per imminenti nozze con Ludovica Mondonovo, in effetti poi celebrate nel 1705. Nello stesso anno, sotto il velo di un innominato accademico animoso, diede alle stampe un compendio del vocabolario della Crusca, attirandosi però l'irritazione degli accademici fiorentini che non erano stati messi al corrente dell'iniziativa. Già in precedenza, peraltro, aveva curato le annotazioni al vocabolario attribuite ad Alessandro Tassoni e della Venezia 1698. Sul fonte teatrale, nel primo decennio del secolo, spiccano i drammi scritti per il Teatro Ducale di Milano, l'esotico Teuzone ed Engelberta, nonché quelli allestiti alla corte di Barcellona, rispettivamente nel 1708 e nel 1710, in omaggio al futuro imperatore Carlo VI d'Asburgo, all'epoca sul trono di Spagna, con il nome di Carlo III, Zenobia in Palmira e Scipione nelle Spagne. Al Carnevale del 1712 risale Merope, andata in scena al Teatro di San Cassiano a Venezia, con musica di Francesco Gasparini, a coronamento della loro pluriennale esperienza amicizia e sodalizio artistico. Sempre nel 1711 si rese vacante il posto di priore al Lazzaretto Vecchio, sull'isola in prossimità del Lido di Venezia. Zeno colse l'opportunità di trasferirsi con la moglie, lasciando la casa del suocero con cui era in perenne contrasto. Ma la consorte spirò nel 1714 senza avergli dato discendenti. Due anni più tardi il poeta ottenne l'incarico di governatore della Dogana di Mare, a cui tuttavia rinunziò nel 1717. Nel frattempo, pur tra mille polemiche e perfino minacce di morte, continuò ad occuparsi del giornale dei letterati d'Italia, che uscì sotto la sua direzione fino al 1718, anno in cui finalmente accettò il terzo invito alla corte di Vienna come poeta cesareo. Affidò al fratello uterino Andrea Cornaro la sua biblioteca di 7000 volumi e partì da Venezia il 13 luglio. Ma il viaggio verso la capitale si rivelò insidioso. Nei pressi di Dogna, in Friuli, il poeta si ruppe una gamba e fu costretto a fermarsi a Pontebba per oltre 40 giorni. Poté giungere a Vienna in Lettiga soltanto in settembre. Nell'autunno del 1731, qualche mese dopo la nomina effettiva di Pietro Metastasio a poeta Cesareo, Zeno fece ritorno a Venezia, stabilendosi in casa Cornaro. Per Vienna scrisse ancora il Sedecia e altri oratori, ma intanto divenne fidato consulente di vari intellettuali veneti tra cui l'abate Conti, il cardinale Angelo Maria Querini, Benedetto Marcello, Poleni e molti altri. La scomparsa nel 1732 del fratello Pier Caterino compromise la pubblicazione del giornale dei letterati che cessò infine del tutto otto anni più tardi. Arriviamo al 1744, Casparo Gozzi curò una monumentale edizione dei suoi 46 drammi per musica, inclusi gli oratori. Jacopo Soranzo gli acquistò un migliaio di medaglie di uomini illustri, poi Zeno, nel settembre del 1747, cedette a malincuore a un acquirente viennese la restante parte del suo ricco museo numismatico. Nello stesso anno fece testamento lasciando la biblioteca al collegio del Santissimo Rosario dei padri domenicani osservanti alle zattere Gesuati, contro i quali avrebbero in seguito e fino al 1770 intentato causa per supposto incuria Andrea Cornaro e i suoi discendenti. Porminato nel fisico e vittima nel 1749 di un colpo apoplettico, il poeta lavorò fino all'ultimo alle dissertazioni vossiane, dettagliati commenti al dei storici slatinis del 1627 dell'erudito olandese Gerard Johannes Vossius. Morì l'11 novembre del 1750 all'età di quasi 82 anni. Le esequie ebbero luogo a Venezia nella chiesa di Sant'Agnese con sepoltura ai Gesuati. Zeno è ancora oggi ricordato come l'insigne riformatore del melodramma prima di Metastasio. Rispettoso e doveroso ringraziamento a Marco Bizzarini, da quale abbiamo estratto questa lettura dal dizionario biografico degli italiani volume 100 2020. Si conclude qui la nostra puntata ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale youtube Venezia Classic presenta al Manacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Donna Igno fa perdere l'ingegno. Buon compleanno Venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Buon compleanno Venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di